L'informatore agrario e Macchine agricole domani presentano Olivo in campo, un progetto per l'innovazione dell'olivicoltura. Olivo in campo è una manifestazione dedicata alla presentazione delle moderne tecniche e tecnologie per garantire la redditività e la sostenibilità dell'olivicoltura. L'evento si svolgerà l'11 e il 12 ottobre ad Andria, presso l'azienda agricola di Pietro e Masseria di Posta di Mezzo. Saranno presentate soluzioni per l'olivicoltura di precisione, con aziende che esporranno tecniche e strumenti per la meccanizzazione, l'edigazione, la sensoristica, app e soluzioni innovative. Saranno presenti i vivaisti con proposte per impianti tradizionali ed intensivi. Si svolgeranno anche 5 workshop sui temi caldi dell'olivicoltura. Anche il settore dell'elaiotecnica sarà rappresentato. Ma Olivo in campo durerà anche tutto l'anno grazie a un ciclo di podcast tecnici specialistici e a un convegno d'agrilevante su prezzi e redditività dell'olivicoltura. Articoli, speciali e approfondimenti sull'argomento saranno poi pubblicati sull'informatore agrario. Potete già trovare il programma delle uscite previste fino a settembre 2024 sul sito di Olivo in campo. Olivo in campo offre quindi un'opportunità alle aziende produttrici di mezzi tecnici, macchine e attrezzature per mostrare i loro prodotti a un vasto pubblico di tecnici agronomi e olivicoltori.